Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti, allora scusatemi se non riesco tanto a parlare bene perché ragazzi ho un po' di, diciamo, non neanche mal di gula, un infezioni interne alla bocca, ragazzi non riesco tanto a parlare perché cambiante di stagione ci sta, come al solito d'estate riscaldi di qua e di là, va bene, chiusa per intesi ragazzi perché, ok, anche ieri in diretta ragazzi, nella live che ho fatto ieri sera con Peruz il Gobbo, mi raccomando per chi vuole si iscriva al canale suo perché è un bravo youtuber e inizio ragazzi, chiusa questa parentesi, andiamo a parlare perché ragazzi deglutisco un po' di deglutisco perché non ho, faccio fatica a parlare e comunque ragazzi come abbiamo già sentito, il TAS ha rispinto la decisione di far non partecipare il Manchester City alla prossima Champions League, ma ci sarà un via via, un via vai di, una via d'uscita, una via libera per Guardiola? Punto di domanda? Non si sa, niente, come al solito, attendiamo ragazzi, attendiamo, 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 non lo so, dai, facciamo anche la prossima settimana, dai, finché ci siamo ragazzi, dai, attendiamo sempre la prossima settimana, perché ragazzi, tanti dicono, arriva Guardiola, arriva Guardiola, ma arriva Guardiola, hai notizie guardiola, ragazzi, attendere, attendere, cioè noi, noi leggiamo in giro, giornali, televisione, però ragazzi, c'è l'ufficialità di qualcosa, ci potrebbe anche stare una ufficialità assoluta, però, ragazzi, sono tutti indizi che vanno a portare un qualcosa che forse sarà reale, ma finché non c'è l'ufficialità da parte della dirigenza che ci sarà un comunicato da parte dell'Reventus, del nuovo allenatore, fino adesso non ci sarà niente. Io ragazzi, non lo so, tanti dicono il Sarri Day, il Sarri Day, ragazzi, io non, io rimango nella mia idea che Sarri l'hanno preso, l'hanno preso, hanno pensato di prenderlo per copertura, per far sì che noi tifosi ci illudiamo che sarà Sarri il nuovo allenatore, ma non sarà così, non sarà così. Per quale motivo? Perché? Per questa attesa, ragazzi, per questa attesa, è la stessa identica cosa che hanno fatto con Cristiano Ronaldo, non è che la Juventus deve ancora decidere un allenatore, perché l'allenatore della Juventus è già fatto, devono fare certi accorgimenti, certi dettagli, certi dettagli che noi non sappiamo di certo, perché fanno tutto di nascosto, appunto, però l'allenatore c'è, però non sarà Sarri, e se sarà Sarri, io ragazzi sarò molto deluso se sarà Sarri, perché le indiscrezioni vanno tutto su Guardiola, ok? e Guardiola, al 100%, sarà della Juventus, per me, ma per tutti, per tutti, perché questa telenovella deve finire, questa telenovella deve finire, non so quando, la prossima settimana, fra due settimane, facciamo anche un mese, tanto ci siamo abituati, sempre, fanno un salto sempre la prossima settimana, cioè non sarà più domani o martedì, la prossima settimana, la prossima settimana ci sarà un comunicato, speriamo, 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 e poi faccio un punto e faccio un altro discorso, punto, ok, questo è un discorso, un altro discorso è che avevo sentito il grandissimo Luca Totti che sta, come si dice, c'è uno youtuber che sta puntando delle frecciatine, anzi, che, in teoria, non li va giù, che è convinto Luca Totti che viene Guardiola, però c'è un altro youtuber che io conosco, che ormai, ormai tutti, tutti conoscono, perché tutti conoscono, però ragazzi, che lui è convinto che verrà Sarri, verrà Sarri e, ma tutti, ma lui è convinto, ma lui sostiene che noi crediamo che venga Guardiola, oddio, tutti, tutti, tutti devono pensare a quello, a quello che vogliono, cioè, noi veniamo pagati, veniamo, veniamo pagati per qualcosa, no, veniamo pagati per qualcosa, per usufruire notizie e dare ufficialità, noi diciamo la nostra, ci teniamo la nostra sia, che sia giusto o sbagliato, dopo, dopo che venga fuori, che tu non capisci niente, ecco, hai fatto credito a tutti che arriva Guardiola, invece non arriva Sarri, o arriva qualcun altro, perché ragazzi, per me, ma, volete sapere che se per caso non arriva, o Guardiola, o Sarri, nel mezzo, ci potrà essere un altro allenatore, che sarà, per me, Zidane, Zidane, per me, sarà il terzo incomodo, ma poi non lo so ragazzi, comunque, ognuno è libero di portare le proprie notizie sul proprio canale e senza offese, perché noi portiamo le nostre notizie sul canale e perché ci vuole credere, ci creda, però, non possiamo farci la guerra tra i youtuber, perché ormai è moda anche quello, farci la guerra per chi spara più cavolate, più hai visual, ragazzi, non è giusto, non mi piace, chi sia inferiore, o inferiore, o superiore, un canale, per me non, non serve, ognuno porta la sua, la fonte, 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 non la fonte, la fonte, la fontanella, perché niente è ufficiale, per adesso, chi che non vedo, non credo, ok? E chi vedrà, vivrà, se non ho detto sbagliato, ok? Ragazzi, per questo video, concludo, vi raccomando, iscriviti al canale di, di, perus al gobo, che è un bravo youtuber, e, ragazzi, adesso, vedremo, il da farsi, e niente, ragazzi, e noi ci vediamo al prossimo video, beh, ragazzi, e vi ringrazio per, per la, per il sostegno, per tutto, per tutti quelli che vengono in chat, per vedere questo piccolo youtuber, che sta crescendo, io sono, strafelice, per risultati, non me l'aspettavo, perché, siete voi che portate avanti il canale, io non sono niente, ma voi lo siete di più, va bene ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, qui, e niente, e sempre, forza Juve, e speriamo di, di vincere questa, no benedetta, perché non è benedetta, non è benedetta, da parte nostra, quella coppa, ma, ma, per tanti dicono, che, è maledetta, quella champions, però, ci sarà un futuro, e quel futuro sarà molto, molto, vicino, speriamo, e guardiola, chissà, arriverà, dopo che non sia, un altro allenatore, però, che sarà meglio, del nostro acciughino, ok ragazzi, sempre forza Juve, iscriviti al canale, e buona giornata a tutti quanti, ciao ragazzi.